Non ha avuto l'autorità sufficiente ad imporre i cambiamenti che avrebbe desiderato e la motivazione ufficiale, assieme ai ragioni di ordine personale e professionale, che la leader degli indipendentisti britannici dello UKIP, Diane James, ha fornito per le sue dimissioni arrivate da appena 18 giorni dall'elezione. James era succeduta a Nigel Farral, che a sua volta aveva lasciato a sorpresa la guida del partito.